Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video che se tutto va bene c'è di nuovo la webcam perché è figa e la webcam è una cosa figa quindi intanto mi butto perché tanto sono da solo anche oggi quindi come avete capito ora non so io pensavo fosse scontato ma al quanto pare alcuni non hanno capito la webcam io la metto soltanto quando appunto sono da solo che non c'è un cazzo di nessuna fare mi compagnia come oggi per esempio cioè in verità la gente c'era però ho deciso di fare da solo perché mi ci andava tutto qui intanto ragazzotti ieri è uscita una nuova serie ora lo dico qua negli skyworks perché comunque so che gli skyworks appunto sul mio canale sono molto più seguiti di tutte le altre serie quindi ecco ve lo dico direttamente qua così almeno non so me la spammo un pochino direttamente il mio canale cioè spammarsi una cosa nel proprio canale ma si può essere così lezzi? si si esatto così intanto mi scordo di shoppare ragazzi incredibile mi faccio prendere tale parole proprio quindi già lo shop prepotente ci sta comunque vi consiglio di andarla a vedere ragazzi perché non tanto per chissà che cosa non pensate così sonè però tipo ci ho giocato anche un po' off camera e devo dire che mi sta piacendo veramente molto ogni secondo tipo che ci posso in più mi diverto un casino cioè è una cosa tremenda ragazzi veramente bello quindi ve la consiglio proprio soprattutto mi aspetto molto da quella serie poi magari farò schifo brutalmente però ecco mi aspetto tanto parlando così a culo ho già arato uno ok che era un po' fk però tipo l'arato con due sparate e non me lo spiego nemmeno io a dire il vero come sia possibile una cosa simile comunque boh cazzo c'è va l'armatura ah forse non si era nemmeno messo non ho visto allora lui è l'enzo ma c'è la spada in diamante oddio perché sono qua sotto ok allora no voglio limitarmi con le cazzate in sta partita qui che poi non sono cazzate lo shopp non è una cazzata ragazzi è una cosa molto seria lo shopp vediamo allora uno uuuh vabbè Tuma però eh no Tuma è una brava persona Tuma è una brava persona ma non mi tirare le tue palle guarda fai schifo eh dai io non voglio dai c'ho l'ender pearl e non mi obbligare non mi obbligare mi sta obbligando ragazzi mi sta obbligando ad usarla vedete io cerco di non usare lo shopp perché dico vabbè dai sono una brava persona non voglio usare lo shopp ma mi sta obbligando ragazzi e intanto oh guarda allora ti uccido così di cattivera uuh 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 ok ok questa è l'ultima volta che ci provo perché poi uso l'ender pearl e non dite ma metano ma tu usi sempre lo shopp perché sennò non sai fare un cazzo forse però ok l'ha cercata ragazzi se l'hai cercata se l'hai cercata ora me la faccio a modo come butti giù ora ok si si tu ma guarda ok ora scendi lì ti butto un altro po' giù dai falla sempre più indietro bravo dai si 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 ancora più indietro tranquillo che poi non ci cari te vai perfetto ok ancora più indietro lo stai facendo spero di si oh no quanto è il lezzo questo qua ragazzi sembra una cazzata ma mi sta creando problemi questo qui eh seriamente oh ma c'erano altre si ok ho altra roba da lanciarli no 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 c'hai la mamma lezza allora quasi quasi vado al centro non lo so si 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 vado al centro dai ad erare questo qua così di violenza oh che cazzo succede che cazzo succede no 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 dove è finito dove è finito è morto è morto non so come è mai morto e questo è l'importante in realtà lui non si è accorto che io non sono la lava non sono più laggiù quindi boh stupido non lo so o è cieco le alternative sono due tipo allora intanto invece di guardare il cesto mi manca qualcosa se il cappellino ok ma io qua non c'è un cappellino quindi non so oh la madoma che cazzo vuoi fare allora questo qui è palese che mi vuole arare in modo anomalo proprio quindi magari cerco ok lui si butta io mi baggo e cado ragazzi le disgrazie le disgrazie proprio madonna ok un'altra partitozza così violenta proprio ma questa mappa qui a dire però non l'avevo vista perché mentre stava startando appunto non me la sono cagata pensavo fosse quella lì tipo fighissima ma invece no quando ho visto queste qua è proprio una fitta al cuore una delusione immensa ragazzi quindi sto male in questo momento allora intanto se non sbaglio ci sono due tipi che io li chiamo tipi perché si sono tipi random così no dai scherzo sono due ragazzotti che sono i miei iscritti quindi magari cercherò di non fare totalmente il lezzo ma cercherò di fare un po' team non troppo perché alla fine li tradirò brutalmente sarebbero John Franzo e Universe perché siamo inglesi noi ok uno c'è morto ma non è dei nostri quindi va benissimo questo qui chi è? non è dei nostri ok ci spero io vorrei tiparmi da qualcuno in maniera molto lezza però non so mai chi sono i nostri quindi boh ci aspetto qui probabilmente ci viene la truietta laggiù a farmi il culo oh cazzo ma sono full io che cazzo aspetto ad andare allora quasi quasi vado quello lì sta venendo da me vabbè vado laggiù via olle via così violenza leggo il nome veloce ok non è dei nostri quindi lo posso arare brutalmente aveva la spara in diamante wow però non l'ha usata perché è il lezzo allora ora dovrei vedere se quello che stava salendo qua era dei nostri o no vediamo leggiamo il nome no non è dei nostri cazzo io pensavo di sì oh oh ma come cazzo fa a picchiarmila così lontano oh john 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 aiutami c'è uno qua sotto aiutami ti prego john tu che sei bravo e io ti stimo non è vero non ti stimo però grazie ma oh 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 ma l'ha ucciso cioè o l'ha buttato di sotto così o l'ho ucciso io non lo so vabbè buona azione in qualunque caso non ho capito cosa sta successo intanto uno dei nostri mischi vencati che è morto però siamo rimasti anche in tre c'è john qua da me no no transollo ce l'ho ce l'ho le mele non mi passare cosa è accaduto anzi tieni non la usare contro di me sta venendo là e là e là e là cazzo ok io ho ancora un enderpearl quindi la userò in maniera molto saggia ok dai cazzo dai cazzo eh no non mi uccidere non mi uccidere eh scontro serio ok no 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 non ti uccidere se ti uccidi no io ti ammazzo sempre ok allora voglio fare che cazzo sto lanciando voglio fare una mini piattaforma giusto almeno una ovviamente se non sbagli i blocchi non è una mia piattaforma vabbè allora lui è ancora un enderpearl spero non la usi contro di me perché se la usa contro di me non lo so vestemmi male anche se poi alla fine non gli da un grosso vantaggio però ecco se mi uccide colpa di quella di sicuramente colpa sempre del vantaggio che io non ho ok in teoria dopo che ho fatto questa filettina qui potrebbe già andar bene ok perfetto perfetto così può andar bene no 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 che cazzo fai Gianfranzo de vai va bene così via ci sei Gianfranzo di merda eh lezzino eh lezzino vieni qui vieni qui che ti arro il culo ti per guarda la spara nel culo proprio così di violenza madonna oddio oddio aspetta stavo cadendo nel vuoto che non è un vuoto perché lì c'è ci sono i blocchi madonna quanto è perfettino ragazzi guardate il costruttore il cazzo del costruttore vabbè allora già che ci siamo facciamo anche così facciamo una cosa a modo completa via tanto vuoi fare le cose perfettine facciamole a modo via ok via una cazzo di arena dove i lezzi vincono chissà chi è più lezzo tra me e lui oddio è una bella sfida allora cosa allora ha scritto allora perché ha scritto allora ti voglio bene lol io no ok pronto vediamo sei pronto no non scrivere ah dimmi se sei pronto sì o no cioè non è che che palle tieni che un valido il cazzo ok allora 3 2 1 via no no ma che cazzo fa con l'enderpearl questo ragazzi non mi ha colpito io l'ho colpito un bordello ogni volta e forse lo uccido vinco attenzione vinco vinco la prima partita del giorno che è un'ottima cosa un'ottima proprio cazzo ok ultima partitozza cioè ultima non so forse sì no dai l'ultima perché sono oggi mi sento un po' più lezzo del solito quindi quindi sì allora intanto cioè qua ci sarebbe da fare la lista ragazzi su questa partita qui perché sono con mezzo mondo da nominare cioè ragazzotti proprio boh oh oh mio dio le nuvole bianche mi facevano pensare fosse il vuoto quello lì l'infarto l'infarto oh mio dio comunque c'è anche Nicola in questa partita perché è un tipo un admin non so cosa cosa sei Nicola sei un helper sei un admin parlamene dai perché ti sei tippato qui marona gli infarti mi fai venire anche te poi perché rimbalzava lì dentro ok questa non me la spiego allora dove sono gli altri ah uno è già morto ok ah comunque siamo anche con The Girl Gamer che mi aveva chiesto prima di essere salutata quindi ciao ed vediamo mi tipperei da questo qua però ok io sono anche messo meglio aspetta magari lo butta lì sotto quello là sì l'ha buttato lì sotto allora vediamo John Franzo tu cosa vuoi fare non lo so io ci andrei anche di shop pesante in questa partita per te ragazzi perché non so dove andare non so proprio dove andare al centro cioè non mi conviene perché vedete ragazzi qua c'è il ghiaccio siccome mi tirano una palla io scivolo via se vado al centro quindi non conviene questa mappa qui in compenso però potrei andare non so forse laggiù c'è qualcuno accanto a me tipo non c'era nessuno ah forse c'era questo qua che si è tippato John Franzo ragazzi e sono veramente indeciso sul da farsi ok laggiù c'è per certo uno quindi ah io mi tipperei qua però madonna l'indecisione ragazzi oddio no 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 spero di averla ok qua c'è Nicola qua c'è Nicola Nicola vuoi fare team vero Nicola vuoi Nicola 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 vuoi fare Nicola vuoi fare team vero Nicola vuoi fare team vero ok bravo Nicola bravo Nicola allora con quella là e quella di prima che dicevo la reteam ok con ca Nicola 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 non lo fare più non lo fare mai più Nicola no allora devo andare ok l'unica è andare da questo qua in poche parole ok lezzo 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 c'è morto non c'è non c'è morto è rimasto sospeso oh è ritornato su oh 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 che cazzo faceva ma che cazzo faceva veramente oh è lezzissimo cioè ragazzi era un lagone o un cheater Nicola ha ucciso ha ucciso già un pranzo Nicola ok siamo rimasti io Nicola e la tipa Lack mi ha chiesto di essere salutata quindi in ordine di tradimento prima tradisco i fan e poi gli admin perché gli admin mi bannano i fan i fan no mi perdonate è vero dai ditemelo ditemelo come volete bene quindi penso che no non si fa ma mi sta tirando le palle no no un tradisco no il fan che tradisco non me non va bene però non si fa ma che cazzo è no non me la fa questa non no no ragazzi no allora questa è veramente l'ultima partita semplicemente perché doveva essere quella di prima l'ultima sì però una cosa è perdere un'altra è essere traditi e devo dire che quella di prima proprio non mi è andata giù cioè io ci ho tentato ritorno dai finisco il video qui non lo so via ci può stare lo stesso no 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 ragazzi non va bene non va bene i tradimenti a me proprio no non si fanno però almeno ha capito qualcosa ha capito che il tradimento da parte mia c'era quindi ha fatto anche bene però non mi va giù quindi va bene così allora intanto per voi va anche bene perché cioè ve ne beccate un'altra cioè boh quindi perfetto via allora mi manca il corpettino e ragazzotti siccome ok non ci sono i miei iscritti ah sì c'è già un franzo allora io ci andrei in un po' di shop stavolta ho lo shop lezzo però ripiglio un po' di tutto no è già però devo fare le cose una alla volta o no oddio ma che cazzo era come cazzo ah già le frecce ok perfetto ragazzi sì io ho lo shop lezzo quello che ho aperto ora si chiama lo shop lezzo proprio a parte che ho comprato le frecce le ho già 10.000 però va benissimo così più o meno non fatelo voi a casa questo shop qui perché è lezzissimo allora vediamo là c'è uno che si sta facendo spero non sia già un franzo ah no è appena morto quindi ok no non era così perché io non lo vedo laggiù se lo colpisco o no però forse vediamo no non lo so non lo colperò mai se c'è qualcuno ok uno è morto ma non l'ho ucciso io allora siamo rimasti ancora in troppi quindi io mi tippe cioè non è che mi si mi tipperei perché io sono violento in quell'isola là intanto ho visto che accanto c'è qualcuno quindi che palle l'ho vista cadere ma l'ho vista cadere lì sotto l'enderpearl e invece sono qui che bello no 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 qua allora potrebbe benissimo andarci di arco ragazzi però penso che la sua armatura mi farà molto comodo oh mio dio quindi che culo lo devo dire questa non è skill ragazzi è culo quindi boh uno mi ha scritto occhio che taigo usac l'ha scritto chi john franzo però è quello che ha appena ucciso se non sbaglio vediamo ok quindi se va bene ucciso uno in effetti la sua sparata era un po' lezza però non lo so non so giudicare se fosse acro o no quello lì allora accanto non vedo nessuno a dire il vero quindi eh laggiù c'è la lava che sta calando quindi in quell'isola là c'è per forza qualcuno io andrei qua quindi boh piano piano mi ci dirigo di violenza con una torrina a culo vediamo tanto non vedo nessuno però se io non vedo nessuno nessuno vede me ah siamo rimasti anche in due con Tavin vediamo ah 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 ma se sono skillato con l'arco lo butto giù dai ha aperto la cesta quindi per forza lì dai cazzo è là per forza è là oh Nicola non mi fare questi scherzi vediamo eh forse non c'è più ma ok forse effettivamente non c'è più quindi non dovrei continuare a tirarci le frecciate Nicola aiutami usa il potere della band di Shadmin e buttalo giù non lo so poi magari lo fa sul serio no non lo fare Nicola allora oddio meno male che non c'è il danno d'accaduta perché ogni volta che io mi butto di sotto mi vengono gli infatti perché dico ok cazzo ora crepo perché sono troppo alto e invece no perché non c'è il danno d'accaduta che bello allora e qua l'ho visto lui sicuramente mi ha visto forse non mi ha visto si dai mi ha visto per favore oh ragazzi ma la mia mira con l'arco non ci credo non ci credo che cazzo sta facendo questo qua ok io non ho capito cosa vuole fare ok l'ho beccato una volta intanto lo sto tartassando o io ci sto mezz'ora qui fino a che non ci crepa un po' dai però io cerco di mirare in punti dove non è lui perché so che se si sposta almeno questa cosa qui l'ho capita non lo colpirò mai se mi lo dov'è veramente quindi è un mirare dove penso che sarà in futuro e oh mio dio ho il vantaggio potrei andarlo a prendere di violenza ora oh l'ho buttato giù si cazzo si vinta vinta due vinte su quattro quindi va abbastanza bene dai non è male ok ragazzi io come potete vedere sono affacciato a un terrazzino sto guardando il vuoto che chi non guarda il vuoto da un terrazzino e dico che con questo panorama qui di stelle appunto nuvole che forse quelli da sono nuvole non ho mai capito è un Nicola volante perché lui è alla fly il video può finire qui spero che vi sia piaciuto ed ciao a tutti guardate lui è alla fly o la fly pure io no io cado